Stai ascoltando Yoga Ayurveda Inspiration. Io sono Anna Biazon e ho creato questo podcast per condividere con te la mia esperienza, con l'augurio di ispirarti a portare la mentalità yogica ogni giorno sul tappettino come nella vita. Ti ringrazio per il tuo ascolto, il tuo supporto è molto importante per me. Ciao Namaste, oggi parliamo di dermatite e Ayurveda che è un'altra questione che è stata proposta su Instagram perché è evidente che molte persone soffrono di problemi di irritazione alla pelle. Questi problemi si manifestano sotto diverse forme, possono essere arrossamento cutaneo, possono essere desquamazione, una secchezza abbastanza importante, a volte anche minuscole o esciccole, qualcune contenenti anche del liquido, presenza di puntini rossi eccetera eccetera. Tutte queste manifestazioni sono denominate in genere eczemi e o dermatiti. Questi problemi generano prurito, generano una sensazione di pizzicore, generano facilità di lacerazioni della cute che poi in alcuni casi si possono anche complicare se non sono curate bene. Allora, è importante prima fare il punto del quadro rispetto a queste problematiche della pelle perché l'incidenza dell'ezema nei paesi occidentali è stata stimata circa al 20%. Questo vuol dire che ogni 100 persone, 20, soffrono di questo disturbo. È già una percentuale molto elevata, però è stato stimato che tende ad aumentare nel corso degli anni e quindi in futuro ci sarà un'incidenza ancora maggiore di questo tipo di problematiche. Per la medicina tradizionale, cioè la medicina allopatica, le cause possono essere molteplici. Viene detto che può essere dovuta a contatto con chimico, con microbico, con allergeni, eccetera, eccetera, e anche da fattori inquinanti ambientali. Esiste anche per la medicina allopatica una certa familiarità, nel senso che la dermatite atopica, per esempio, si può presentare più facilmente nelle persone che hanno un familiare che ha questi stessi disturbi e questa familiarità vale anche per chi soffre di allergie o di asma. Per l'ayurveda invece l'origine di questi problemi è data dalla presenza in tutto il corpo di tossine che in ayurveda conosciamo come ama che sono derivate prevalentemente da cibo parzialmente digerito. Questo rende il corpo un terreno sensibile a qualsiasi agente. Poi, in base ai campi morfogenetici che sono i dosha che ogni individuo possiede, l'ezema si può distribuire di più in una zona rispetto in un'altra. Ecco, quindi questo è il punto di vista ayurvedico. E io trovo che sia molto illuminante notare il dato di fatto, considerando quello che ti ho detto prima rispetto alle percentuali e agli studi scientifici che sono stati fatti, perché stiamo parlando di una realtà oggettiva, cioè di come sia calcolabile un netto peggioramento di numerosissimi disturbi, tutti riconducibili, come spiega l'ayurveda in modo impeccabile, ad una scorretta assimilazione del cibo che produce tossine. E sempre come dato di fatto, questo è riconducibile a ad un aumento negli anni di assunzione di cibo di scarsa qualità e b alla perdita progressiva di comprensione rispetto alle regole fondamentali dell'assunzione del cibo. Quest'ultimo è dato anche da un'eccessiva vastità di teorie e diete che circolano e di convinzioni errate rispetto al cibo e anche all'assunzione dello stesso, senza nemmeno comprendere gli elementi che sono nel corpo, all'esterno del corpo e presenti nel cibo stesso. Un paio di settimane fa ero a Ferrara con un amico che mi dice, ah sai mi sono messo a dieta, mi apre il frigo e mi chiede, cosa dice l'ayurveda di queste cose che sto mangiando? Allora io ridendo inizio l'elenco, questo ti blocca i canali, questo è privo di energia vitale, questo ti crea tossine, questo ti squilibra l'elemento aria eccetera eccetera. Perché la gente ha un concetto errato di cibo sano? Assume cibo in contesti geografici sbagliati, la maggior parte delle volte, fa abbinamenti sbagliati, cioè voglio dire anche un'insalata mangiata nel modo scorretto viene digerita parzialmente e crea uno squilibrio. Perché questo è il focus quando dei cibi non adatti a noi in un dato periodo dell'anno, in un dato momento, per una data costituzione, vengono mal digeriti, cioè digeriti parzialmente e quindi creano tossine. Questo è il focus su cui bisogna portare, cioè imparare qual è l'alimentazione più adatta a noi, nel luogo dove ci troviamo, nel clima dove ci troviamo, nelle particolari condizioni nelle quali ci troviamo. Ecco perché siamo di fronte ad un aumento di problematiche dovute all'accumulo di tossine. Quindi tornando alle dermatiti e ai problemi di pelle, conseguentemente la Iurveda suggerisce di liberare ovviamente il corpo dalle tossine, aprendo tutti i macro canali che sono gli sorotas, come ad esempio l'intestino e anche i micro canali, come i capillari sanguigni, fino ad aggiungere ai canali cellulari. Quindi disintossicare, ma ovviamente ogni caso andrebbe visto nel modo specifico. Ma se desideri comunque una pelle più sana e più luminosa, per esempio puoi usare tisane con le foglie e gli impiastri, che sono molto efficaci, che sono facilmente reperibili. Se desideri depurarti, per esempio rinfrescare il tuo corpo infiammato, stimolare il metabolismo e la produzione naturale delle cellule del sangue, potresti prepararti una tisana con le foglie di ortica. Il nome è botanico della nostra comune Ortica, Ortica di Oica, e nonostante sia erroneamente considerata una pianta infestante da eliminare dai campi, è una pianta dalle mille virtù benefiche per la nostra salute. Due tazze al giorno ti faranno rinascere, perché questa tisana lavora sul sangue. Col passare dei giorni scoprirai di avere anche una pelle molto più luminosa, molto più elastica, andranno a scomparire i foruncoli, migliorerà la dermatite e si attenueranno anche le macchie. Per fare la tisana ti basterà riscaldare l'acqua e quando è bollente versarla sulle foglie. Per una tazza da circa 250 ml occorrono un cucchiaio di ortica, che sono più o meno pari a 15 grammi. La lasci in infusione dai 12 ai 15 minuti, non di più, e ne bevi due tazze al giorno. Per l'ezema e la psoriasi puoi preparare anche con le foglie di ortica degli impiastri che andrai ad applicare sulle zone in questione e scoprirai come la tua pelle migliorerà senza dubbio. E con questo ti saluto, dandoti appuntamento al prossimo episodio, ma prima, come sempre, ti auguro il meglio per la tua esperienza. Namaste. Grazie a tutti. Grazie a tutti.